L'indiscreto, l'approfondimento giornalistico su fatti di cronaca, attualità e politica. L'indiscreto, dentro la verità, dentro la notizia, a cura della redazione giornalistica del quotidiano di Gela.it. Buonasera, bentrovati con l'indiscreto. Abbiamo ospiti tre esponenti di una associazione di volontariato come tante, ce ne sono nella nostra città a Gela, che nel loro, tra virgolette, tempo libero, che in realtà non è, da non confondere con, come dice, a volte anche tempo perso, assolutamente tempo impegnato nell'aiutare gli altri, noi abbiamo avuto già ospiti, mi ricordo, proprio all'inizio della loro avventura, proprio i rappresentanti dell'associazione Gioia nel Dare. È passato un po' di tempo, è passato più di un anno e mezzo, l'associazione è cresciuta, come numero di assistiti, come anche numero di volontari, e adesso ha, non solo raggiunto, ma superato, quello che erano le più rose aspettative e gli obiettivi. E oggi li abbiamo ritrovati, non sono invecchiati, sono sempre uguali, sono sempre dei ben ragazzi, adesso potete vederli, la prima volta li abbiamo sentiti in audio, adesso grazie anche ad Antenna 7, la nostra web tv, possiamo anche dialogare visivamente con loro. Intanto do il benvenuto ai nostri tre amici, che sono Vincenzo Marino. Ciao Vincenzo. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti. Ciao Enzo Mondello. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti. E a Ilvezzio Tuccio, che invece è la prima volta che viene qui in radio. Buonasera. Loro sono soltanto tre degli oltre 70 componenti di questa associazione, che è composta più da famiglie intere, da nuclei intere familiari, dove ci sono proprio giovani, ci sono i genitori, e soprattutto fanno parte di una comunità evangelica di via Toulouse-la-Trec, mi hanno anche una volta rimproverato, che abbiamo detto prima il cognome e poi il nome, ma il francese non è il mio forte, neanche questo autore a cui è dedicata questa via. Vincenzo, ci siamo visti, c'era anche Lello Retucci quella volta, c'erano altri amici, è passato più di anni e mezzo, l'associazione è cresciuta, ma è cresciuto purtroppo anche il bisogno di aiutare gli altri. Ci sono tante persone che continuano a stare male nella nostra città. Effettivamente hai detto un dato certo, perché sì, siamo cresciuti come associazione, sono cresciute anche le famiglie che hanno bisogno, perché famiglie che magari qualche tempo stavano bene con un reddito sicuro, anche con la chiusura della raffineria, ci rendiamo conto che il bisogno ovviamente è maggiorato, perché chiudendo lo stabilimento tante persone si sono trovate senza uno stipendio, senza un reddito, comunque con serie e grosse difficoltà. Tra l'altro poi quando noi parliamo della raccolta alimentare che svolge ogni mese l'associazione, non lo diciamo mai a voce alta, ma anche nella stessa associazione ci sono tante persone che hanno difficoltà, che hanno presso il lavoro o che sono in cassa integrazione, che hanno tante difficoltà, quindi uno magari pensa, aiutano gli altri perché loro stanno bene, non è così, però è lo spirito cristiano quello soprattutto che mi muove, vi muove in prima persona nel fare questo tipo di servizio. Sicuramente la Bibbia ci dice che dobbiamo fare del bene, come hai detto prima tu, ci sono anche soci che sono in difficoltà, perché quanti sono in cassa integrazione, quanti sono disoccupati, ma noi autiamo tutti, non facciamo distinzione né di religione, né di colore né di bandiera. Noi abbiamo un comandamento e questo noi lo rispettiamo, una missione, un traguardo e noi vogliamo andare avanti appunto nel fare il bene alle persone che hanno bisogno. Vi chiedo di stare un po' più vicino al microfono, così vi sentono anche meglio. Enzo Mondello, l'associazione era nata per servire 20, 25, 30 famiglie, soprattutto anche facendo parte della stessa comunità evangelica. Oggi ne serve 70, a volte è successo che si è arrivati anche 90 famiglie. Questo significa che purtroppo c'è tanto bisogno e quindi la necessità è aumentata. Quindi come vi state organizzando, come avete fatto in tutto questo tempo, un anno e mezzo ad aiutare queste tante famiglie che hanno bisogno? Diciamo che intanto è un dato inaspettato, ma grazie a Dio, Dio fa la sua parte, abbiamo la collaborazione della nostra cara città di Gela. Vediamo che la città di Gela, nonostante si trova nel bisogno, e sembra aperta a dare. E questo ci rallegra tanto perché, oltre che ci rallegra, ci incoraggia a continuare a fare questo servizio. Tra l'altro voglio dire, c'è quello, non so se definirlo, un nostro motto, un slogan, un modo di dire, è quello che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E questo è un modo che aiuta anche a svolgere questo servizio. E il Vezio, lui, per esempio, è un dipendente Eni, quindi ha visto e vive la crisi dal di dentro, fortunatamente non ha colpito la sua famiglia e ne siamo ovviamente felici, però il Vezio conosce sicuramente il dramma di tanti tuoi colleghi, perché chi ha mantenuto il posto di lavoro, sicuramente come te, ha dovuto anche cambiare città, per esempio. Sì, Fabrizio, è vero. Attualmente io anche mi trovo fuori, forse sono, come dire, fra virgolette, uno dei fortunati, innanzitutto perché lavoro, che oggi come oggi non è facile trovare lavoro. E purtroppo la chiusura, come diceva Vincenzo, dello stabilimento è stato un duro colpo per la città di Gela, perché molti lavoravano anche dell'indotto e molti di noi erano qua. Purtroppo molti con la famiglia si sono trasferiti in altre città, in altri posti dove ci sono raffinerie o dove c'è Eni e purtroppo sono andati via. Questo ha fatto anche un danno per la città di Gela. Ne abbiamo parlato tante volte anche dal punto di vista personale, ma anche con i diretti interessati. Speriamo che questa riconversione così tanto proclamata possa portare in effetti dei benefici a un ristoro. Io dico, perché spesso si fanno polemiche politiche anche su cose inutili, io dico soltanto che qualsiasi intervento possa portare ristoro per le imprese e di conseguenza per i lavoratori, per me è benvenuto. Se è il portodifugio, i lavori, la progettazione la fanno, Pinco o Pallino, a me non interessa. Io so soltanto che un'impresa di Gela troverà lavoro e che di conseguenza tanti operai, tanti lavoratori avranno un loro beneficio. A me interessa questo. Invece spesso ci si blocca o si perde tempo perché poi si vuole la paternità politica di questo intervento. Torniamo a noi però, torniamo invece all'associazione Gioia nel dare perché c'è la raccolta alimentare una volta a mese. Però ci sono anche novità importanti, Vincenzo Marino, le novità importanti, non so se vuole dirla il verso, per me non cambia nulla, quello che adesso c'è una convenzione anche col Banco Alimentare. Quindi grandi passi in avanti fatti in questo periodo. È arrivato anche il riconoscimento dall'assessorato regionale, quindi è diventato onlus, non è più un gioco, quindi diventa sempre più impegnativo. Tutto fatto sempre, con spirito cristiano. È veramente con un volontariato purissimo, non puro, purissimo. Sì, come hai anticipato tu, siamo partiti che dovevamo servire 20 famiglie. Oggi, come è stato già detto, superiamo 70, a volte arriviamo anche a 100 perché, capite bene, la crisi è talmente tanto, il bisogno è talmente tanto che, voglio sottolineare una cosa, ci mettiamo anche del nostro, parlo del lato economico, a volte per coprire i bisogni delle persone. Comunque, io volevo fare una parentesi per ringraziare tutta Gela, perché chi ci aiuta veramente è Gela, i gelesi. E io dico sempre, aiutateci per aiutare. Questo è il nostro lavoro. Come diceva Fabrizio, siamo diventati da qualche mese, ormai onlus. Capite che è un'impresa impossibile arrivare onlus con l'iter che gira in Sicilia, ma effettivamente il nostro lavoro è stato talmente serio, continuo e con una trasparenza da capogiro che la regione è passata una cosa. Pensate che non tutti, tutte le associazioni diventano onlus, appunto, perché ci sono state qualcuno che non ha camminato effettivamente in maniera trasparente. Noi lo siamo e di questo ne siamo fieri e orgogliosi, vogliamo andare sempre avanti. Poi, figuratevi, c'è stato pure aperto il banco alimentare della GEA che non è facile, non è semplice, perché è tutto un iter burocratico, ma noi vogliamo ringraziare anche Dio per questo che siamo arrivati fino a questo punto. Non ci vogliamo fermare, vogliamo andare avanti, vogliamo aiutare chi veramente è nel bisogno e io rammendo ancora. Aiutateci per aiutare. Tra l'altro il vezzo mi pare è stato insieme al presidente Luigi Fraglica proprio al banco alimentare di Paternò, la sedove Paternò se non ricordo male, quindi hai visto da vicino quella realtà, cosa vi hanno detto quando vi hanno conosciuto, perché sembra anche semplice, ma là hanno voluto verificare di persona tutti i requisiti, anche degli associati, di uno per uno, parlo delle famiglie assistite, non dei soci ovviamente, per capire intanto la loro situazione economica, quindi vedere lì sedi ognuno di loro, quindi un iter molto rigido. Sì, infatti, mentre noi aspettavamo qua sotto, che ci chiamavano agli uffici, vedevamo che molti giravano o avevano problemi proprio riguardanti la documentazione. Loro vedono tutto, dalla firma, dagli sei, dai componenti, e se effettivamente c'è qualche inganno. Ma noi ringraziamo... L'inganno, come è successo in passato, è che qualcuno magari venga servito da più associazioni. Sì, perfetto. È successo anche questo e quindi loro sono molto rigidi. Noi, grazie a Dio, abbiamo cercato di essere, come diceva Vincenzo, sempre trasparenti. trasparenti. La verità l'abbiamo, come dire, l'abbiamo portata là. Quelli erano effettivi ciò che noi serviamo, le persone che noi serviamo, e quelle erano le famiglie. È stato, come dire, un po' all'inizio loro erano, ma poi hanno visto che effettivamente c'era il bisogno di questa città e ci hanno aperto dopo poco tempo, dopo che eravamo l'anno visto tutta la documentazione, hanno aperto le mani e hanno detto va bene, vi possiamo aiutare, infatti ci hanno chiamati. Ovviamente non è questa la sede per fare nessun tipo di polemica, ma una cosa la vorrei far rilevare, perché conosco ovviamente bene i nostri ospiti. Questa associazione è nata appunto da circa un anno e mezzo e svolge la sua attività ogni mese, li vedrete domani, per esempio che è il sabato, li vedrete in tutti i supermercati, anzi in sei supermercati cittadini con le pettoline blu, col simbolo generalitario, con la scritta, quindi sapete già chi sono, se li vedrete, li conoscete forse già, ma questa associazione fa tutto con le proprie forze e anche non ha una sede. Da più di un anno e mezzo questa associazione ha provato a chiedere ad un ente pubblico, quindi in questo caso al comune, di poter essere ospitato in qualsiasi immobile comunale che possa essere disponibile anche temporaneamente, però purtroppo questa risposta non è arrivata. Ed è un vero peccato perché non è uno sfizio e avere una sede un po' più idonea consentirebbe di poter aumentare il numero di famiglie a sostenere, onore Vincenzo. Sicuramente, sicuramente sì, certamente avremmo più spazio, ci potremmo muovere a 360 gradi, lo facciamo già, lo faremmo di più ancora perché capite bene che un locale piccolo non possiamo andare oltre le nostre aspettative in quanto rinviti gli scaffali essendo una struttura piccola, invece se avessimo avuto magari qualcosa in più anziché prendere 5 supermercati e abbiamo preso 6 più con il banco alimentare che ci aiuta, chiaramente le famiglie non sarebbero quelle che abbiamo ora ma sicuramente sarebbero di più. Io voglio fare anche un invito al signor sindaco, all'aggiunta comunale a quanti gli enti sono interessati voi capite bene che è un'associazione seria e non lo dico io lo dice Gela ormai lo dicono i commercianti che ogni mese ci danno a disposizione il loro supermercato anche per fare la raccolta questo ne sta dalla serietà dell'associazione dei soci dei volontari che si mettono appunto davanti al supermercato con educazione e con decoro questo penso che già sia abbastanza ripeto se il comune l'assessore il sindaco ci potete aiutare stiamo aiutando i cittadini di Gela stesso tra l'altro notizia che insomma che noi abbiamo dato più volte in questa fase diversi consiglieri comunali una commissione speciale si sta occupando degli immobili comunali è stato scoperto cosa che ci rammarica veramente che su 84 immobili comunali concessi a privati che siano associazioni no profit oppure profit non lo so o anche sportive quelle che sono ecclesiastiche ludiche religiose eccetera soltanto 15 hanno una documentazione a posto e solo 3 hanno dei contratti onerosi tutti gli altri stanno nei locali comunali non si sa a quale titolo e con quale forma contrattuale questo secondo me è una cosa che non può esistere e spero che venga finalmente regolamentato questo 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 problema questo settore perché è giusto concedere locali comunali si può anche concedere però bisogna verificare caso per caso chi le ha in concessione a quale titolo perché io non posso io cittadino venire a conoscenza che un immobile comunale è dato in concessione ad un'associazione che fa scopo di lucro vada vada da un'altra parte oppure paghi un canone all'amministrazione comunale se no diventa il doppio del danno erariale c'è una commissione ripeto consigliare che si è occupata di questo c'è una concertazione speriamo anche con l'amministrazione ma speriamo che i tempi siano brevi perché le esigenze per esempio di un'associazione come Giugno del Dare sono sempre immediate imminenti e spesso invece la politica ha dei tempi molto lunghi Enzo Mondello invece parliamo della raccolta una volta al mese si raccolgono i geni alimentari ma anche prodotti per l'igiene personale ma l'associazione va oltre durante la settimana se vi arrivano pacchi di indumenti in buono stato ovviamente o giocattoli per bambini insomma un po' di tutto raccogliete ormai diciamo la cittadinanza ci conosce quindi tutti ormai vengono a darci quello ovviamente che possano perché hanno visto la nostra serietà e in questo la nostra testimonianza che oramai diciamo loro hanno preso fiducia in noi e quindi loro portano di tutto ovviamente quello che è possibile diciamo immagazzinare nel nostro nel nostro piccolo magazzino come avevi detto poco fa se magari qualcuno ci pensa ci dà qualche onere qualcosa di più grande noi siamo più contenti anche perché vogliamo servire la nostra città stessa Elvezzo ti sarà capitato anche te ovviamente come gli altri di svolgere in prima persona questo servizio e forse ti sarai di essere conto che quelli che sono più sensibili sono quelli che hanno di meno questo è un aspetto un po' paradossale purtroppo è così è vero sì vero infatti molte volte ci accorgiamo di di persone che hanno poco e danno quel poco che hanno quel pacco di pasta noi non chiediamo grandi cose nella raccolta chiediamo anche un pacco di pasta un pacco di zucchero riso sale un po' d'olio non chiediamo grandi cose è questo e vedo che molte persone che hanno poco che anche ci conosciamo nel bene o nel male che danno quel poco ed è una una gioia ed è veramente bello vedere persone che danno che possono quello poi ci sono episodi anche belli che ci avete raccontato anche privatamente quello di che so addirittura una volta di una donna che è assistita della stessa associazione che si trovava al supermercato e ha voluto lei fare la spesa perché capiva quello che facevamo e quello che viene fatto dall'associazione stessa voglio un po' di cittadini stranieri mi ricordo anche che non vivono nel loro che non vivono nel loro si è vero ragazzi che chiedono che sono davanti al supermercato questi ragazzi di colore che sono messi lì e danno fanno la loro offerta che fanno quella quella spesa per dare all'associazione questa è una cosa molto bella e una cosa che mi è piaciuta alcune famiglie che noi servivamo prima e poi hanno trovato magari il marito del lavoro anche quel piccolo lavoro hanno chiesto di non c'è bisogno a noi grazie a Dio abbiamo trovato quel piccolo lavoro il mio marito sta lavorando e riusciamo a farci quel e loro diventano poi donatori una volta venivano assistiti ora e questo è bello anche perché l'associazione non ha il compito non può controllare e verificare se qualcuno dice bugio magari alisezzero può fare svolgere magari un lavoro in nero purtroppo non si può fare nulla sta nella buona fede della persona dire la verità raccontare la verità quello può succedere pure vero questo è vero si potrebbe evitare con una rete tra associazioni per esempio anche lì per evitare che un assistito vada in diverse altre realtà associative però anche quella è una cosa di cui si parla da decenni ma non si è mai fatto nulla noi anche come associazione andiamo spesso a vari riunioni in cui ci chiamano e ci aiutiamo anche con alcune confrontate ci confrontiamo come loro fanno e questo la nostra associazione non si vuole fermare ripeto solo alla raccolta ma ci sono tante altre idee purtroppo i locali non ci permettono ma non bisogna solo aiutare queste persone nel dare il pacco alimentare ma bisogna anche aiutare avendo anche un dialogo con loro e cercando di portare anche i loro bambini a dargli qualcosa in più come un piccolo parco giochi ad esempio o anche aiutarli a fare compiti che non sono cose così da sottovalutare ma aiutarli a 360 gradi in questo senso aiutarli anche ad affrontare vari problemi perché non penso che saranno solo i loro problemi mangiare ma anche altri problemi quindi un sostegno non soltanto economico in questo caso ma anche morale volendo spirituale se loro ovviamente lo accettano proprio affettivo quasi addirittura in questo caso perché i problemi sono tanti infatti avendo i locali doni con tanti volontari che hanno anche delle competenze diverse perché tra i 70 volontari si può trovare la persona laureata in pedagogia si può trovare l'avvocato il biologo l'esperto di infanzia quindi tutti possono dare una mano e fare addirittura sempre qualcosa in più quindi voglio dire le possibilità ci sono bisogna che l'associazione sia messa nelle condizioni di poterlo fare ecco questo va bene abbiamo concluso il nostro spazio quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro per le vostre raccolte alimentari ma soprattutto anche per tutte le altre attività che ha in mente di svolgere questa associazione che ripetiamo è nata da meno di due anni però ha già fatto passi da gigante magari Enzo non sia un gigante d'altezza io dico sempre che sono il più alto dei nani sono un gigante ma un uomo non va misurato per la statura fisica sicuramente non è una difesa non è una difesa ma sono dati di fatto noi ripeto cerchiamo di andare avanti io non finisco mai di ringraziare la città di Gela tutta non finisco mai di ringraziare tutti i commercianti appunto i gestori del supermercato e anche qualche imprenditore che si sta avvicinando nel fare donazioni per acquistare anche dei frigo qualcosa infatti volevo lanciare un avviso appunto se c'è qualche imprenditore o qualche persona che comunque vuole fare una donazione che comunque verrà scaricata tutto perché come abbiamo detto prima ormai siamo un'associazione onlus perciò la donazione verrà scaricata tutta capite bene di cosa sto parlando va in compensazione con lo Stato se dovete pagare IVA o meno abbiamo avuto già qualche imprenditore che ci sta facendo delle donazioni perché abbiamo bisogno dei frigo da trasporto perché come abbiamo detto prima siamo stati collocati alla GEA perciò ci dà del mangiare per trasportarlo da Paternò a Gela occorrono dei frigorifero come abbiamo detto prima la nostra associazione ci autotassiamo per andare avanti perché non prendiamo soldi da nessuno questo lo voglio sottolineare non prendiamo soldi da nessuno perciò se c'è qualcuno volenteroso qualcuno che è più fortunato rispetto a qualche altra persona meno fortunata e vuole farci una donazione noi l'accettiamo volentieri appunto sapete che aiutando noi stiamo aiutando i nostri cittadini chi può dirlo che non c'è qualche familiare nostro che viene aiutato dalla nostra associazione anche con la nostra piccola offerta grazie ragazzi grazie credo anche da parte della città invece a voi perché quello che fate è sicuramente meritevole quindi forse la città che deve ringraziare questa associazione come tutte le altre non soltanto Gio Nel Dare c'è mancherebbe altro il CAV ma c'è solo tante raste la Croce Rossa insomma tante associazioni che veramente svolgono un lavoro bellissimo anche negli ospedali per assistere ai matri terminali di cancro ci sono tante bellissime realtà in questa città che spesso è veramente maltrattata anche da questo punto di vista invece sono tante persone che fanno del bene solo per il piacere di fare del bene verso gli altri grazie quindi a Vincenzo Marino Enzo Mondello e a Ilvezio Tuccio e ovviamente a tutti i soci dell'associazione Gio Nel Dare grazie ragazzi grazie grazie anche al quotidiano di Gela per l'invito che ci ha donato vogliamo ringraziare tutto lo staff del quotidiano e di Radio Belle FM e di Antenna 7 ovviamente questo grazie va anche da parte del presidente della nostra associazione Luigi Fraglica lo ricordiamo Luigi Fraglica di tutto il direttivo e di ogni singolo socio grazie grazie a tutti buona serata l'indiscreto l'approfondimento giornalistico su fatti di cronaca attualità e politica l'indiscreto dentro la verità dentro la notizia a cura della redazione giornalistica del quotidiano di Gela.it